Facciamo l'ultima ripresa del Pantheon con un 3,60. Panchine un po' alla bulgara, però sono comode. Tutto un grande parco attorno a questo monumento, l'alieno che ci segue, eccolo qua, da sempre, eccola lì, vedi, ci segue sempre. E questo è l'ingresso del Pantheon. A ricordo di tanti caduti. Fine delle trasmissioni con un stupendo ciao ciao. Ciao.